Ciao ragazzi, benvenuti su Passione Ritmo. Oggi voglio entrare con voi nel mondo del rap e della trap. Lo so, alcuni di voi potranno essere diffidenti, anche perché questi due generi solitamente vengono suonati con le drum machine. Però potrà capitarvi, come è successo a me, di dover accompagnare un rapper con una band e di dover fare il ritmo giusto. Quindi, se siete interessati, seguitemi in questo viaggio. Ma prima, sigla! Partiamo con un po' di storia. Entrambi i generi derivano dall'hip hop. Il rap nasce negli anni 70 nei ghetti americani, come forma di protesta sociale. E i testi delle canzoni parlano di degrado, emarginazione e razzismo. La trap, invece, è un sottogenere del rap, che nasce più tardi, intorno agli anni 90, ad Atlanta. I testi delle canzoni parlano di criminalità, ricerca della fama e della ricchezza. A livello ritmico, i due generi musicali sono molto differenti. Il rap è suonato in quattro quarti e la velocità si aggira sempre tra gli 80 e i 95 bpm. Nella trap, invece, la velocità si aggira tra i 130 e i 140 bpm, quindi è molto più veloce. Nel rap, il ritmo più lento serve ad esaltare la capacità del rapper di pronunciare testi con tantissime parole, spesso in rima. Nella trap, invece, il ritmo è più incalzante e si fa largo uso dell'autotune, che rende la voce metallica, quasi robotica. Se volete saperne di più, vi consiglio due album. All Eyes on Me di Tupac e di S2 di Future. Adesso, mettiamoci alla batteria. Come base per il ritmo rap, userò il brano Dottor Dre di Snoop Dogg, che ha una velocità di 93 bpm e il charleston è portato a ottavi. In questo modo. Per mostrarvi un esempio di ritmo trap userò una base a 140 bpm. Il charleston in questo caso fa delle figure molto particolari che non seguono uno schema ben preciso. Insomma, faccio prima a farvelo vedere. se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Se non volete perdervi neanche una puntata voglio farvi ascoltare All Eyes on Me di Tupac Grande icona della scena rap americana anni 90. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Daie! Alla prossima puntata. 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 Alla prossima puntata.